eccoci qua un video spieghino non certo uno spiegone per chi non ha esattamente chiaro la differenza dal streamer dac lettore di rete audio over ip di quelli come me che non sono nativi digitali il video destinato a un pubblico generico quindi anche agli amanti dell'alta fedeltà la prima parte soprattutto per loro e la seconda parte quando si parlerà magari di audio over ip in particolare per gli utenti di impianti multi room o di impianti commerciali o di impianti per uffici ditte dove c'è bisogno una grande modularità una grande estensione di impianti e allora partiamo che cos'è uno streamer innanzitutto parliamo di una sorgente audio come sorgente audio è un lettore cd un lettore gira disco un sintonizzatore lo streamer contiene la parola stream che in inglese vuol dire qualche cosa tipo flusso lo streamer il nord stream 2 è un flusso di gas adesso è molto di attualità bene uno streamer nel nostro caso nel mondo audio è un dispositivo che cattura un flusso di musica non di metano e lo sporta in casa nostra per essere fruibile come contenuto audio questo flusso è un flusso che è sulla rete su internet può essere di varie qualità può essere un flusso di mp3 super compressi così come può essere un flusso di audio ad alta risoluzione ma è su internet quindi uno streamer è un apparecchio un dispositivo spesso molto carino che si collega alla rete internet tramite varie modalità che possono essere a bordo dello streamer stesso oppure su un telecomando oppure su un'applicazione per telefono si decide dove andare a pescare la musica che ci interessa sempre in internet quindi può essere uno dei programmi di spotify ti dal qualsiasi altro fornitore di contenuti anche ad alta risoluzione oppure può essere anche un fornitore che sempre risiede su un url internet un fornitore dicevo di contenuti ad alta risoluzione per un ascolto di alta altissima fedeltà bene lo streamer lo porterà in casa nostra e lo si collegherà all'impianto ma quello che sentiremo non è il segnale di internet cioè qualcosa tipo questo quello che sentiremo sarà invece un contenuto musicale speriamo anche buono tipo questo chi si occupa di fare la conversione tra questo segnale digitale che viaggia nelle reti internet il segnale analogico che invece serve a noi per essere ascoltato dalle nostre orecchie è il dac e che cos'è il dac un dac può essere questo o un dac può essere questo perché dac è l'acronimo di digital audio converter quindi il convertitore da digitale ad analogico o dal contrario da analogico a digitale quindi questo dac non è un vero proprio lettore è un dispositivo che converte il segnale da digitale in analogico o da analogico in digitale ecco perché spesso vedete a d d a a d da analogico a digitale ad esempio quando dobbiamo fare entrare il segnale analogico in un mixer a d oppure d a da digitale da analogico quando dobbiamo ascoltare un segnale nativamente digitale e dobbiamo trasportare in analogico di ecco che il da quindi è contenuto in ogni streamer viceversa non ascoltare i bit in ogni streamer che si occupa come abbiamo detto di catturare portare a casa il segnale che è sulla rete in ogni streamer dicevo c'è un dac un convertitore che converte con qualità più o meno buona di solito buona il segnale è in analogico e lo rende fruibile noi ma attenzione se andate in un negozio di alta fedeltà ben fornito e pignolo e chiedete un dac non vi proporrà uno streamer vi proporrà vero e proprio dac quindi un apparecchio che fa solo quello e di solito lo fa molto bene cioè un convertitore digitale analogico che di solito si attacca a qualche sorgente digitale può essere lo streamer può essere un lettore di cd o di blu ray o di qualsiasi fonte digitale o anche un computer del quale non volete utilizzare il dac interno ma volete dotarvi di un dac di alta qualità scelto da voi ecco che il dac è un apparecchio a sé stante che in realtà si occupa solamente della conversione da digitale ad analogico lo streamer può contenere il dac anzi di solito lo contiene il dac va attaccato va collegato a una sorgente digitale ma vogliamo giocare un po con queste parole così sulla bocca di tutti allora mettetevi una mano in tasca e scommetto che avete in tasca due dac e due streamer contemporaneamente guardate eccolo qua questo è un telefonino in realtà si chiamerebbe mobile si chiamerebbe cellulare si chiamerebbe palmare noi lo chiamiamo telefonino gli abbiamo dato questo nome così come abbiamo dato streamer dac ad apparecchi qualsiasi qui dentro siccome io posso sentire della musica che su internet e vedere dei filmati che sono sempre su internet ho ragione di chiamare questo apparecchio streamer audio e streamer video e qui all'interno ci sono almeno due dac uno che si occupa di convertire il suono digitale in audio analogico e un altro che si occupa di convertire anche il video e posso dire che questo sia uno streamer e un dac o un impianto di amplificazione ma è certo che no quindi diamo il nome giusto se possibile a qualsiasi apparecchio dac quindi convertitore analogico digitale streamer sorgente audio che usa la musica liquida la famosa musica liquida che è su internet diciamo subito che uno streamer ovviamente visto che collegato in rete sicuramente avrà accesso anche alla musica che è residente nelle vostre memorie di massa quindi nel vostro computer nel vostro nas in questo caso si chiamerebbe lettore di rete perché sta leggendo dei contenuti non proprio liquidissimi già che non sono nel lettere o sulla rete internet ma sono residenti a casa vostra comunque fisicamente non li potete toccare come toccato un disco ma sono residenti in questo caso dovremmo chiamarlo lettore di rete ma qui scendiamo veramente nella nei bizzantinismi gli streamer invece possono avere altre caratteristiche ad esempio uno streamer può essere amplificato quindi non essere solamente una sorgente ma vera all'interno anche l'amplificatore è un po quello che succedeva anni fa con i sintomplificatori degli apparecchi che in sé contenevano nello stesso chassi il sintonizzatore con il quale ci si sintonizzava sulla musica liquida di allora cioè le onde radio ma che all'interno avevano anche l'amplificatore quale collegare le casse ed ecco che io sintonizzavo la radio le ascoltavo nelle casse anche in questo caso ci sono gli apparecchi molto interessanti tra l'altro cioè degli streamer amplificati che sono degli impianti a tutti gli effetti all in one basta collegarci le casse nel nostro campo quello che trattiamo noi del microfono nel campo professionale questi streamer amplificati sono molto utilizzati anche perché permettono di semplificare molto l'impianto audio e l'utilizzo da parte di personale anche non specializzato e di ottenere contemporaneamente anche quella funzione multi room spesso molto desiderata nel professionale nel commerciale negli uffici dove si vogliono dividere varie stanze con contenuti musicali volumi magari anche diverso la tecnologia degli streamer ultimamente sta aiutando molto questo tipo di progettazione che è quello di cui ci occupiamo noi tra l'altro e l'audio over ip parliamo di p quindi questa i che non sta per impermeabile ma internet sembra collegare gli streamer all'audio over ip invece l'audio over ip una cosa decisamente diversa cioè in pratica è una serie di protocolli di su più famoso è dante protocolli che permettono il trasporto di segnale invece che fatto con il solito sistema di cavi xrl bilanciati con tutte le problematiche del caso permette il trasporto del segnale utilizzando la rete ethernet la rete che tutti abbiamo in casa o meglio se non l'abbiamo in casa sicuramente l'abbiamo nel nostro ufficio nella nostra attività nel nostro negozio di sfruttare quella rete per trasportare il segnale audio con indubi vantaggi di installazione ea di sicurezza del segnale di lunghezza dei cavi e anche se l'elettronica monte lo permette un'ottima gestione delle zone e del volumi del sorgenti audio nei vari ambienti di ascolto quindi l'audio over ip è un protocollo o più protocolli che trasportano il segnale audio non amplificato utilizzando la struttura di rete già residente nella vostra attività oppure affiancandola con una seconda rete dedicata sarebbe ancora meglio se l'impianto è complicato che prevede come tutte le reti uno switcher c'è un apparecchio dove si collegano tutti i cavi ethernet i famosi cavi cat 5 e o superiori che da lì partono dallo switch partono e raggiungono tutti i nostri device tutte le nostre casse o amplificatori che abbiamo nel nostro edificio anche se molto grande e complicato le parecchiature che si collegheranno ad un impianto audio over ip ovviamente dovranno essere di tipo dedicato cioè dovranno avere all'interno i decodificatori di questo segnale che ora è un segnale digitale non è più un segnale analogico come quello che correva sui cavi xrl ma è un segnale digitale con i suoi tanti pregi sui pochissimi difetti gestibilissimo trasportabilissimo utilizzabilissimo in maniera molto facile soprattutto grazie delle ottime applicazioni che se l'apparecchiatura di marca vengono fornite rendono molto facile il lavoro o meglio l'intrattenimento durante le ore lavorative di chi si dota di questa tipologia di impianti qui mi fermo ognuno degli aspetti che abbiamo toccato meriterebbe un video di approfondimento ma come detto si trattava di un piccolo spieghino e non di un grande spiegone invece grande il saluto che vi rivolgo terminando con il solito a presto sul canale e il microfono